le direzioni. Questo fine settimana sono possibili rallentamenti e code sulla statale 45 bis Gardesano Occidentale da Cadine in direzione del capoluogo Trentino dove per lavori attivo restringimento di carreggiata. Il consiglio è di evitare il tratto nelle ore di maggior traffico quindi oggi e domani tra le 16 e le 20.